La lunga resistenza contro la malattia si è fermata dopo anni. Patrizia Casagrande, ex presidente della provincia di Ancona, nata e residente a Senigallia, si è spenta a 66 anni. Una vita vissuta in prima linea, nella politica che l'ha accompagnata come strumento per spostare l'attenzione sulle donne sul sociale. Nel Consiglio Comunale di Ancona, nella Giunta Provinciale e nel Lupi, fino alla Filarmonica Marchigiana, la forma tra i ricordi più sentiti, quello di Luca Ceriscioli. Un'amica, persona che ho avuto modo di apprezzare, di conoscere, sia in sede ufficiale, attraverso l'impegno amministrativo, sia dal punto di vista umano e personale. Ha tenuto una dignità straordinaria, impegnata a fine alla fine, per noi una perdita importante, una persona che va molto a cuore il suo territorio, inteso certamente come la sua città, la sua provincia e la sua regione. Una colonna, un riferimento, la sua scomparsa lascia in me un vuoto profondo. Emanuele Lodolini, parlamentare PD, perdiamo una grande presidente della provincia, ci mancherà davvero tanto, Silvana Amati, senatrice democratica. Le fae con l'altra senatrice PD, Camilla Fabri, grande perdita per la comunità, era un punto di riferimento importantissimo. Ricordiamo, si legge in una nota del Lanci regionale, l'eccellente amministratrice che ha sempre considerato imprescindibile la collaborazione tra gli enti locali per la valorizzazione dei territori e delle popolazioni amministrate. Il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, donna delle istituzioni, i funerali si terranno giovedì 14 dicembre alle 9 nella chiesa del Portone a Senigallia.